siamo nel 56 come sapete il protagonista del film è egno redattore dell'unità giornale del partito comunista italiano perché in italia c'erano i comunisti i comunisti non vivevano solo in russia azione poi faccio un film una volta ogni cinque anni l'ho fatto per produrre ce film se le progette il più importante ma deve essere sempre lo stesso se no poi va tutto male tua madre produce il film di un altro regista non va bene così è tutto diverso emma ti ha detto almeno come si chiama il suo ragazzo non aspettiamo suo figlio non ho filmi danni mi aspetto che giovanni cambi ora ha iniziato a girare un nuovo film top quale scena d'amore questa è una scena in cui parlate di politica questo è un film d'amore azione scusate la scena che stai girando fa male al cinema lo capisci voglio lasciare giovanni ma non ne sono capace non ci riesco non è mai il momento notro rendezvous e confiammese netflix netflix i nostri prodotti sono visti in 190 paesi 190 paesi 190 paesi comunque c'è un grosso problema in questo film manca un momento what the fuck musica giovanni stare con te è diventato sempre più difficile chiamo martin scorsese no penso che ci dovremmo separare pier che succede ciao a tutti la storia non si fa con i sé e chi l'ha detto io invece la voglio fare proprio con i sé